Sono Barbotto Rosa, Rosina vabbè. All'epoca avevo 36 anni, non è che potevo dare tanto, però perché lavorando in casa facevo la maglierista e avevo un bambino che andava a scuola, faceva la prima o la seconda e avevo anche mio suocero che per cui insomma non ero tanto libera, però quel periodo lì l'ho passato brutto perché avevamo trovato dei volantini dove c'era scritto a Natale le mamme piangeranno in questo momento così delle bombe, qualcuno l'aveva trovata, non so se poi è stata una cosa che qualcuno l'ha messo solo per spaventare, comunque in giro alle scuole io c'ero sempre, le mie ore me le facevo sempre, cercavo in tutti i modi di andarci. Mi ricordo una cosa, scusate, c'era una nostra amica che doveva partorire e anche lei ha detto io vengo, ho detto lascia perdere che andiamo noi e dice no no vengo anch'io, mi ricordo che è passato un vigile di lì perché ogni tanto venivano, facevano il giro con noi, ha guardato e ha detto signora lei se ne va da casa, non stia mica qui in queste condizioni qui perché era proprio al limite e lei gli ha detto no, io ho due figli lì dentro, io sto qui, se non mi succede niente sto fino a che ho finito la mia ora per dirle che era una cosa che facevamo proprio, insomma la paura c'era, i bambini erano nelle scuole e comunque è stato un brutto momento, poi vabbè le manifestazioni, abbiamo cercato anch'io sempre di andarci perché per forza non si poteva farne a meno, comunque è finita poi insomma con una tragedia perché era morta poi una signora all'ultima bomba. Io non ricordo che ciò che eravamo alla standa, a quei tempi lì c'era la standa, via Paolo Boselli, eravamo dentro con mio marito, abbiamo sentito un colpo in quel momento lì tutti cercavano di uscire, c'era stato un momento proprio brutto, era quella che era successa verso Monturbano di lì e comunque eravamo tutti spaventati. Ognuno faceva il suo pezzo, noi che eravamo lì vicino noi abitavamo lì vicino alle scuole e mio figlio era lì e facevamo sempre quel giro lì delle scuole. Noi avevamo quel punto, insomma, i tombini, prima si andava un po' a vedere tutto in giro, si era un po' tutto se passava qualcuno che niente niente era un po' che magari cercava di prenderci anche in giro, si andava si andava anche a vedere, mi ricordo che era passato un caretto, quei carettini a mano, si andava a vedere cosa c'era sopra, questo sì, si andava lì si prenotava, andavamo a prenotarci e poi dicevamo l'ora che noi eravamo disposti ad andare, sì sì, me lo ricordo bene, mi ricordo anche le riunioni che si facevano dove c'era il dopo lavoro della Magrini, c'era sempre pieno così. È stato un momento brutto, molto brutto. Più che altro i nostri figli che erano là nelle scuole e continuavano a dire attenzione alle scuole perché sono le più pericolose, poi insomma diciamo che poi va già bene che poi è finito tutto, comunque di gente che girava, che andava, che guardava, ce n'erano tanti. Grazie. Grazie. Grazie.